Aldo questa volta non ti puoi lamentare non solo mi devi essere riconoscente per tutta la vita ti sei sempre lamentato che non eri capacecchia per la femmina quando te lo sto mandando di essere sincero un cuofono onestamente ah dimmi una cosa l'ultimo uno delle ultime che ti ha mandato a biondo com'era guarda non c'era male fisicamente però quando ci ha giudato a fare come ti ha già dicendo senza spirito senza spirito a biondo siete a rosso a rosso pure effettivamente mi ha fatto una bella impressione appena l'hai visto ma in un minuto la roba l'ho trovata senza spirito senza spirito pur a rosso tu giuro è la bomba finale la bruna che è la bruna nera nera mancano pochi spirito Aldo rimane la cosa ma tu puoi stare in palla e tenessi in cerasa